Chiederemo 5 posti di letto in più alla regione in modo tale da poter garantire anche questa fascia di popolazione nel momento in cui sia una fase di acuzie poter essere seguita, di poter essere supportata nel momento di maggior impegno. Questa è la richiesta indirizzata alla regione dall'US2 per il reparto di psichiatria del Caffoncello, un numero seco tra i tanti di questa pandemia ma che dà la dimensione di un disagio della mente diffuso che può diventare vera e propria patologia. La depressione è la vera patologia del post-covid perché chiaramente la gente è stanca, la gente è stata privata dell'amore di un proprio caro e quindi di conseguenza ovviamente la depressione è la prima patologia che si incontra nel post-lutto. Sofferenza che ha provato anche tanti operatori sanitari alle prese con la cosiddetta sindrome di burnout per i quali è stata istituita una task force di pronto soccorso psicologico. Vedere persone che stanno male, vedere persone che ci lasciano, chiaramente per i nostri è stata una pugnalata al cuore perché ovviamente un medico, un infermiere nasce per guarire, non per vedere la gente che sta male e che magari muore. Chiaro che il problema si può risolvere soltanto alla radice con le vaccinazioni, quindi dice Benazzi bene la partita che sta portando avanti la regione. Se abbiamo la possibilità di portare a casa il vaccino andiamo a salvare, lo dico ma con molta tranquillità, vite umane. Inevitabile quindi concentrare tutti gli sforzi sui cosiddetti grandi anziani. È chiaro che deve arrivarci il vaccino perché se arrivano 7000 dosi alla settimana non lo so se riusciremo a farlo ma sicuramente l'obiettivo è questo, di fare tutti i grandi anziani entro marzo.